Presentata l'undicesima edizione di Viaggio a Cavallo, evento organizzato dai padri trinitari di Venosa e Bernalda, che partirà da Venosa sabato 14 settembre con arrivo a Bernalda sabato 21 settembre, 10 tappe per un totale di 270 chilometri. La carovana, composta da circa 20 cavalieri, tra cui 10 ospiti dei centri di Venosa e Bernalda, con l'ausilio di istruttori, accompagnatori e volontari, in una logica cara ai padri trinitari, quella della integrazione tra ragazzi disabili e le comunità sociali con cui entrano in contatto, seguirà i percorsi dei vecchi tratturi. Alla conferenza stampa presenta il presidente del Consiglio regionale Carmine Cicara, il direttore del centro Vito Campanale e il coordinatore del viaggio Francesco Castelgrande, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Sono loro che sono gli eroi perché danno a noi un bel segnale, bisogna avere coraggio, dignità, scrupolo per quello che si fa e loro possono essere le persone che permettono a noi di acquisire energia per dare e dimostrare a tutti i nostri concittadini e anche alle istituzioni quanto sia importante essere coraggiosi e portare avanti un progetto. I nostri ragazzi lavorano tutto l'anno, fanno delle escursioni settimanali a cavallo fuori nei boschi perché l'allenamento non solo dei ragazzi ma anche dei cavalli è molto importante. Fare una media di 25, 30, anche 40 km al giorno non è cosa da poco. Certo, solo gli addetti ai lavori possono capire quanto è faticoso fare questo viaggio, ma la fatica di questo viaggio deriva proprio dal titolo del viaggio. Noi abbiamo intitolato questo viaggio la dea greca della vittoria, Nike, perché a simboleggiare che questi ragazzi, queste persone aiutate, seguite in un certo modo, possono misurarsi e fare cose estreme che nessuno magari avrebbe pensato. È un grandissimo lavoro ed è bello poi riscontrare questi risultati. Questo è uno dei progetti che noi realizziamo, quelli per quanto riguarda l'equitazione, ma non è l'unica, ce ne sono tante altre che realizziamo. Devo dire che con questo rinnovato spirito di fare cose nuove ho notato anche da parte dei nostri operatori un entusiasmo incredibile. Grazie a tutti.